I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. Ritorna a Subbiano con piacere per parlare della seconda guerra mondiale Giuseppe Russo. In questo caso ritorna anche con un patrocinio che è quello dell'associazione e quelli della Karin e con un libro storie da pubblicista. Credo che essere all'interno con il vostro simbolo, con il vostro stemma sia veramente un onore per voi. Decisamente sì, quando la prima volta Giuseppe è venuto per presentare gli altri volumi che aveva scritto, aveva detto che avrebbe voluto fare un lavoro anche parlando di Subbiano e anche di alcune cose che sono all'interno del museo, quindi noi gli abbiamo fatto vedere un oggetto che è un posacenere fatto con un bossolo di artiglieria e che mette in collegamento le due zone geografiche, quella di Giuseppe con la nostra. Quindi essere lì dentro queste pagine ci rende veramente orgogliosi anche perché Giuseppe sta creando tantissimi ponti nel territorio nazionale e sta mettendo in comunicazione non solo a livello intellettivo le persone ma sta facendo da collegamento anche tra le associazioni e vorrei ricordare anche il collegamento con gli archeologi dell'area con i quali noi abbiamo già collaborato e quindi riuscire a fare da ponte tramite Giuseppe per noi è una soddisfazione immensa che tutti possano vedere il nostro piccolo museo nel nostro piccolo borgo ci rende veramente orgogliosi e speriamo che anche i nostri concittadini siano orgogliosi perché è importante e questo ci tengo veramente tanto ricordare che nel 2016 quando è nata l'associazione quelli della Karin eravamo solamente tre persone. Il gruppo ha avuto varie vicissitudini è stato ricomposto con persone stupende ma Subbiano mantiene il primato, è il primo paese nella provincia di Arezzo ad avere un museo della seconda guerra mondiale che parla di tutte le forze in gioco. Quindi va ringraziato Giuseppe per ricordare anche questo. Giuseppe Russo, un ritorno piacevole a Subbiano era iniziato quasi come un gemellaggio e in realtà continua un po' questo gemellaggio. Ho detto prima si legge come un magazine, storie da pubblicista perché in effetti tu sei un giornalista oltre a essere uno scrittore ma sei anche un profondo ricercatore. Ricercatore di tante storie che poi tra l'altro questo libro era una curiosità particolarissima. Abbiamo il QR code che quindi questo naturalmente significa andare verso tempi moderni ma guardando al passato hai creato delle situazioni, hai scoperto anche degli aneddoti particolarissimi. Sì è quasi una conseguenza purtroppo del brutto periodo pandemico che finalmente ci apprestiamo a lasciare perché come diceva prima Rudy e anche ricordo Luciano e Lia che con loro si è creato questo ponte culturale dalla Campania alla Toscana, io ovviamente sono onorato di essere di nuovo qui su questo nostro bel territorio e questi ponti mancavano, siamo stati davvero troppo tempo isolati e quindi ho raccolto tutte queste storie e sto cercando di riattivare tutti i ponti finalmente in presenza, dobbiamo ritornare a vivere e il discorso della tecnologia sì è vero perché oggigiorno bisogna cercare di venire incontro alle esigenze dei lettori, i lettori vogliono toccare anche con mano le cose, quindi il QR code perché? Perché si può andare verso approfondimenti semplicemente scansionando col proprio smartphone questo codice ma soprattutto per andare anche a visitare i luoghi, ecco quindi se si parla ad esempio del museo della Carin o se si parla degli amici di Ferrara e degli Ada col QR code si arriva alla pagina dei musei per poter venire, avere le informazioni giuste e poter partecipare dal vivo a conoscere la storia. Un libro particolare ho detto io perché è velocissimo nella lettura però parte addirittura da penso Dante, quindi hai omaggiato già Dante, purtroppo è successo tutto questo avvenimento nel periodo proprio pandemico, però arrivi addirittura fino a Ustica dicevo prima, quindi un percorso lunghissimo che guarda un po' tutta la nostra storia quindi non soltanto quella legata proprio alla seconda guerra mondiale ma gli aneddoti ce ne sono tanti perché sto parlando, l'ha detta anche Rudy, di aneddoti, di curiosità. Sì perché mi sono accorto che molte persone riescono ad acquisire meglio le peculiarità dei propri territori e del territorio italiano in genere che partono come più spesso ho detto in altre sedi spesso e volentieri è la seconda guerra mondiale, il collettore dei grandi cambiamenti. Ad esempio uno degli episodi che racconto e qui abbiamo nel museo abbiamo dei pezzettini ritrovati, adesso c'è una vetrina con i pezzi di spitfire del territorio da poco ritrovati, la tecnologia che noi utilizziamo oggi ancora nei centri commerciali per esempio quando ci capita che suona l'antitaccheggio e magari sudiamo freddo perché non vogliamo rubare qualcosa ma magari la commessa ha dimenticato di togliere come dire quell'aggeggino per evitare che qualcuno faccia un furto, quella è una tecnologia che molti dei ragazzi di oggi pensano sia qualcosa di digitale, di strano, di arrivato fantascientificamente 10-20 anni fa, è una tecnologia che utilizzavano i spitfire in guerra. Il microonde che noi utilizziamo quotidianamente a livello industriale lo utilizzano anche i grandi ristoranti, le grandi industrie, è qualcosa che è nato insieme alla marina militare americana durante la seconda guerra mondiale, quindi bisogna conoscere di più di queste storie perché sono più facili da acquisire, sono veloci da leggere appunto come un magazine o potremmo dire come post social che noi oggi siamo tanto abituati ad utilizzare e ci fanno avvicinare perché poi queste curiosità io cerco di ribartarle sui territori, ecco a venire a vedere qui un pezzettino di spitfire o dagli altri amici ad esempio a Mignano Montelungo dove c'è un altro museo di guerra o a Ferrara da Iada, ecco questa triangolazione continua permette attraverso il libro di poter andare a visitare i luoghi e di far vedere che le cose che si raccontano, che si leggono in delle parole con dell'inchiostro non sono fantasie, sono cose reali che si possono toccare e vedere con mano perché una cosa che io porto avanti dal 2014 che sta molto interessando le persone è il fenomeno del turismo militare di massa, ciò che noi oggi viviamo come turismo lo costa è stato trasformato in modernità capitalistica proprio grazie alla seconda guerra mondiale perché in primis i tedeschi da noi come alleati in Francia dove avviarono questo fenomeno come occupanti iniziano a creare delle vere e proprie agenzie di viaggi come ne conosciamo ne oggi per distrarre i soldati, in Italia lo facevano ripeto da alleati, poi arrivarono con l'occupazione anglo-americana i liberatori e loro abituati con la solita verve capitalistica del famoso fare i soldi, il pile of money, riproposero questi percorsi già tracciati dai tedeschi, li riproposero in senso commerciale, addirittura nelle mie zone a Caserta sono passati diciamo migliori artisti del cinema di Hollywood, della musica di Hollywood, sono passati addirittura degli sportivi britannici e soprattutto questo fenomeno turistico ha dato vita poi a quel cambiamento globalizzante che tanto spiega perché noi oggi siamo quello che siamo, ad esempio entrati a Napoli il primo ottobre del 41 in una città liberatasi da sola sappiamo che i magazzini Upim italianissimi simbolo anche dell'autarchia fascista in quel periodo perché le merci erano scarse furono immediatamente ripuliti e si diede vita ad un vero e proprio mall, uno store anglo-americano, stessa cosa a Roma l'Alexander Club che racconto è dove oggi c'è una delle sedi della Banca d'Italia a via 20 settembre è stato il più grande centro commerciale militare anglo-americano presente in Italia fino al dopoguerra. Un dato simpaticissimo che tantissimi stanno cercando come dire di leggere questo articolo e di capire come sia possibile perché sembra anche strano il volume che passava in questo centro commerciale addirittura venivano servite oltre 27.000 tazze di tè al giorno, quello è un edificio, il famoso edificio di vetro, il CIM, magazzini CIM con multipiano, c'erano addirittura delle sale di ascolto, c'era una cappella con i preti, c'era addirittura il medico podologo, c'erano dei bar e dei ristorantini riservati alle donne, alle soldatesse, altri riservati agli uomini e altri che erano aperti a chiunque. Un vero e proprio aspetto moderno che noi dimentichiamo che non è partito da poco con la Cina che ha invaso con i suoi prodotti, è qualcosa che è partito durante la seconda guerra mondiale. Quindi tante curiosità. Senti, com'è che si inserisce gli arubecchi proprio in questo tuo magazine quasi di storie da pubblicista? Perché il territorio di Subbiano come l'episodio che viene raccontato attraverso il famoso Posa Cenere che mette in collegamento il territorio di Francolise nel Casertano a questo territorio, anche il castello di Valenzano di cui ci parla Lia è un momento di collegamento perché le storie che io racconto sono anche curiosità sui castelli d'Italia e se da una parte troverete magari la storia di un castello dove c'è un bambino fantasma nelle zone del Basso Lazio, in questo caso il collegamento è con la seconda guerra mondiale dove in questo castello come ci ha raccontato Lia si sono svolti importanti episodi diciamo della resistenza e soprattutto anche di fratellanza per mettere il territorio in sicurezza e permettere alle persone di sopravvivere in un periodo davvero difficile. Il castello di Valenzano si inserisce in queste storie perché prima di tutto veramente ha una storia particolare, una storia che viene da lontano, una storia particolare, una storia di una principessa, una contessa poi diventata principessa che si lascia convincere alle idee del patriottismo da un personaggio che era un personaggio importante del comitato di liberazione e che al castello era andato di nascosto, infatti non viveva al castello ma viveva nella casa del guardia che è all'esterno del recinto però il castello allora non è come ora, allora la vita pullulava, c'erano 10-11 poderi, contadini che andavano venivano, commercianti che andavano a comprare, il mio babbo veniva da Capresi a comprare, che aveva l'osteria, a comprare il vino al castello di Valenzano, conosceva molto bene la contessa, quindi era tutto un pullulare di gente per cui non era facile individuare se c'era qualcuno di veramente sospetto qualcuno, poi non si sa come questa persona sospetta però è riuscita e qui rimane un mistero ad avvicinare questa contessa e a convincerla alle idee del patriottismo come ho detto prima. La festa si tiene alla fine di maggio, mi pare questa grande festa patriottica che addirittura si dice che si fanno questo raduno di partigiani e si dice che lei abbia addirittura preso le tende, alcuni tendaggi per fare le bandiere perché non sapevano come fare le bandiere e questo raduno, questa fiducia che lei ha nei partigiani, nella lotta partigiana la trasmette naturalmente a tutti coloro che pullulavano intorno al castello e allora erano tanti perché erano tante famiglie, ogni famiglia magari erano sette, otto persone e quindi c'era un continuo andare e vieni. Ma parlando del castello, che naturalmente Elia traccia questa curiosità legata proprio a questa contessa patriottica, però c'è il fatto che il castello anche nel proseguo del tempo è diventato un luogo di ricordo per quanto riguarda la liberazione. Mi ha fatto molto piacere che Giuseppe Russa ha scelto un pezzo su Subbiano e noi abbiamo credo opportuno mettere la storia del castello perché la storia del castello di Valenzano è stato un faro delle tutte manifestazioni che si sono svolte nel secondo dopoguerra, tantissime manifestazioni con personaggi anche di alto livello in cui si trovavano per celebrare la liberazione della città di Arezzo, di Subbiano, Capolona e di tutta la provincia. Quindi è stata una cosa interessante che lo voglio rimarcare e che ha avuto questa grande opportunità. Presentazione all'interno della Sala Consigliare del Comune di Subbiano e il libro di Giuseppe Russo, storie da pubblicista, al cui interno ci sono tre argomenti che interessano proprio il territorio di Subbiano, quindi tre inserti interessanti, quello naturalmente legato al Museo, quello legato alla Corte dell'Oca e poi naturalmente anche il castello di Valenzano. Credo che per il Comune da un punto di vista culturale, visto che abbiamo anche qui l'assessore proprio alla cultura, sia importante. Sì, assolutamente importante. Un binomio che si rinnova, una collaborazione che si rinnova con Giuseppe Russo, naturalmente sempre grazie all'Associazione del Museo, quelli della Carin, con un percorso di storie che Giuseppe ha portato in questa sua nuova opera e con storie che interessano appunto anche il nostro territorio, articoli redattiche sulle tipicità del nostro territorio e in particolar modo l'articolo che riguarda poi il castello di Valenzano che ci porta alla memoria storica, quella della Seconda Guerra Mondiale, quindi la storia che ne è conseguita. Per tutti noi è un piacere nuovamente incontrare Giuseppe nella nostra sede, poterlo nuovamente ospitare e fare in modo che le sue storie possano tornare ad essere, a far parte di tutta questa grande storia che lui racconta e di cui se ne fa testimone. È un piacere, un vivo piacere per Subbiano perché naturalmente si rinnova questa collaborazione e questo rapporto di amicizia tra le nostre realtà territoriali, lui Caserta, naturalmente Subbiano e quindi per noi è veramente piacevole tutto questo. Vi è arrivato anche un premio nel 2021? Sì, il premio Liburia inatteso, una sera mi arrivò una mail, pensavo fosse uno scherzo, devo essere sincero, infatti chiamai subito gli amici che mi avevano candidato e mi avevano che non è uno scherzo. Io ripeto, sono una persona semplicissima, non faccio questo per vivere, sono un giornalista regolarmente scritto all'ordine, faccio il ricercatore anche, ma lo faccio come tanti in Italia perché credo che il nostro paese meriti un po' più di cultura, che non significa dover fare i filosofi, significa semplicemente cercare di conoscere qualcosa di più di se stessi per poter anche approcciarsi nella vita in maniera più semplice perché si riesce a sapere qual è la base di partenza del nostro territorio.